Siamo tutti lo stesso, queste cose fondamentali non esistono, tra l'argentino, il nero e il giallo, la differenza ce la creano adatte chi vuole fare i propri conti. Non esiste un saluto ma anche il singolo, ma proprio il personale di vita del tempo. La vita non è altra che un brutto quarto d'ora, composto da attimi scusivi o scavulare. Un aforismo. Più tardi sarà troppo tardi. La nostra vita è come Jack Brevetto. Finché il tempo non passa non sai cosa sta importando nella tua vita. Questa è una trala sagina, non la conosco. Però ecco il bello della rete, quello che perlomeno a me piace, che insieme a questi grandi che più o meno li conosciamo, li abbiamo letti o studiati, ci sono anche questi che io definirei quasi anonimi, cioè il Sagrata San Natale. Che però comunque esprimono quelle cose secondo me interessanti. E questo invece è il Paolo. Il giorno di sveglieremo ci sarà più tempo per fare le cose che sempre sono andate. E questo è il Paolo. E questo è il Paolo. E questo è il Paolo. Questo invece è il Salvatore Davide. Anche nella Pintura ci sarebbero moltissimi cari. Ho scelto questo, che poi lui ha fatto una mossa assolutamente le sue opere, la derivazione. Questo è il tempo è fluido. Il tempo è fluido, sì, sì. E' come me lo pensa. Il tempo è fluido. Il tempo è fluido. Non è bestiale. Non tutti è sanitario. ...di orologi liquidi. Mi sembra che sia a New York. Quest'opera che non si vede. L'avevo messo proprio il quadro. Questo invece è un calciatore. Il resto è morto, che è negli anni 70. Ho speso. Ho fatto in cui dorme. E anche con le automobili. Il resto ha cosperato. Non lo spedessimo. Quello ha fatto cosperato. Quello il resto lo spedessimo. Il resto lo spedessimo. E' importante. Questo è l'anonimo. Invece che si preoccupa della tempistica. Lascia mi stare oggi. Quei amico, ma come sta? Leggi, sì. Oggi non me la va bene l'una. Quei leggerlo comodamente. Lascia mi stare. Che è successo? Voglio fare la pizza. L'ho messa nel forno. L'ho dimenticata e si è bruciata. Poi mi volevo bere una birra. L'ho messa nel freezer. L'ho dimenticata e si è piaciata. Però qualcosa ogni tanto ti ve la fuori in tempo. La cosa peggiore è che il mio amore mi ha detto che è incinta da volto. Però qualcosa ogni tanto ti ve la fuori in tempo. Questa è la buzia del popolo della rete. E questo è un anonimo che appunto empatizza. Vediamo qualche proverbio napoletano. Sempre in breve. Sì, non è un po' di ragione. Non è un po' di ragione. Non è un po' di ragione. Se ognuno è passato il tempo, passassero. Passassero il tempo, se guardassero, non tenessero il tempo e quindi calato. Passassero il tempo a parlare male del nemici che a parlare buono della amici. l'amore fa passare il tempo e l'amore fa passare il tempo e l'amore ha passare il tempo. Questa è l'attività di sentirsi. Grazie.